Annabeth Più tardi, Annabeth prese una solenne decisione. Mai e poi mai avrebbe dormito di nuovo nel tartaro. I semidei fanno sempre brutti sogni. Anche quando era al sicuro nel suo letto, giù al campo, le capitava di avere incubi orrendi. Nel tartaro erano mille volte più vividi. All'inizio, Annabeth era di nuovo una bambina e arrancava sulla salita della collina Mezzosangue. Luke Kestelan le teneva la mano e la attirava. Il satiro che faceva loro da guida, Grover Underwood, gli aspettava saltellando nervoso sulla cima, strillando «Svelti, svelti!». Paglia Grey scopriva loro le spalle, tenendo a distanza un esercito di segugi infernali con l'egida, il suo scudo terrificante. Arrivata in cima, Annabeth vide il campo che si stendeva nella vallata. Le luci calde delle capanne, la promessa di un luogo sacro e protetto. Inciampò slogandosi una caviglia e Luke la prese in braccio. Quando si voltarono a guardare, i mostri erano a pochissimi metri di distanza e circondavano tali a decine. «Andate!» gridò lei. «Li tengo a bada io!» Brandì la lancia e un fulmine forcuto si abbatté sulle file dei mostri. Ma per ogni segugio che cadeva, un altro lo sostituiva. «Dobbiamo andare!» gridò Grover e fece strada verso il campo. Luke lo seguì, con Annabeth in lacrime che gli batteva i pugni contro il petto e urlava che non potevano abbandonare Talia. Ma era troppo tardi. La scena cambiò. Annabeth era più grande e stava risalendo alla collina mezzo sangue. Nel punto in cui Talia aveva combattuto la sua ultima battaglia, si levava un alto pino. Nel cielo si stava addensando una tempesta. Un tuono scosse la vallata. Un fulmine spezzò il pino fino alle radici, spalancando uno squarcio fumante. Nelle tenebre sottostanti c'era Reina, pretore di Nuova Roma. Il suo mantello era color del sangue appena versato. La sua armatura d'oro luccicava. Alzò lo sguardo, il volto regale distante, e parlò, facendo risuonare le parole nella mente di Annabeth. Sei stata brava, disse, ma la voce era quella di Atena. Il resto del mio viaggio dovrà essere sulle ali di Roma. Gli occhi scuri di Reina si fecero grigi come nuvole temporalesche. Io devo ergermi qui, continuò, e dovranno portarmi i Romani. La collina tremò, il terreno si increspò e l'erba diventò una massa di pieghe di seta, la veste di una dea gigantesca. Gea si levò sul campo mezzo sangue, il volto grande quanto una montagna. I segugi infernali si riversarono lungo le colline. Giganti, Ghigenisa sei braccia e ciclopi selvatici, attaccarono dalla spiaggia, abbattendo il padiglione della mensa, appiccando il fuoco alle capanne e alla casa grande. Va presto, disse la voce di Atena. Il messaggio deve essere inviato. Il terreno si squarciò sotto i piedi di Annabeth, che precipitò nelle tenebre. La figlia di Atena spalancò gli occhi e urlò, cercando le braccia di Persi. Era ancora nel Tartaro, nel tempio di Hermes. Va tutto bene, era sicuro a Persi. Brutti sogni? Annabeth tremava ancora di terrore. È il mio turno di guardia? No, no, noi stiamo bene. Ti ho lasciato dormire. Persi! Ehi, non c'è problema. E poi ero troppo esaltato per dormire. Guarda. Bob era seduto a gambe incrociate vicino all'altare e masticava allegramente un trancio di pizza. Annabeth si stropicciò gli occhi, chiedendosi se fosse ancora un sogno. Quella... quella è una pizza col salame piccante? Offerte votive, spiegò Persi. Sono i sacrifici fatti in onore di Hermes nel mondo mortale. Compaiono in una nuvola di fumo. Abbiamo mezzo hot dog, un po' d'uva, un vassoio di arrosto e un pacchetto di noccioline al cioccolato. Cioccolatini per Bob, esclamò il titano entusiasta. Eh, per voi va bene? Annabeth non protestò. Persi le portò il vassoio di arrosto e lei mangiò come un lupo. Non aveva mai assaggiato niente di più buono. Il petto era ancora caldo, con la glassa dolce e speziata che usavano i barbecue del campo mezzo sangue. Persi annui, come se l'avesse letto nel pensiero. Credo che venga proprio da lì. Annabeth ebbe quasi le vertigini dalla nostalgia. A ogni pasto, i ragazzi del campo bruciavano una porzione del loro cibo in onore dei divini genitori. In teoria, il fumo delle offerte serviva a compiacere gli dèi. Ma Annabeth non aveva mai riflettuto su che fine facesse il cibo, una volta bruciato. Forse le offerte ricomparivano sugli altari degli dèi nell'Olimpo. O perfino lì, nel bel mezzo del tartaro. Noccioline al cioccolato. Annabeth sorrise. Connor Stolne brucia sempre un pacchetto per suo padre, a cena. Ripensò al padiglione della mensa, a quando si sedevano a guardare il tramonto sulla baia di Long Island. Era stato lì che lei e Persi si erano baciati per la prima volta. Si sentì riempire gli occhi di lacrime. Persi le posò una mano sulla spalla. Ehi, è una buona notizia. Vero cibo direttamente da casa nostra. Ti rendi conto? Annabeth annui. Poi finì di mangiare in silenzio. Bob trangugiò tutte le noccioline al cioccolato, dalla prima all'ultima. Meglio andare adesso. Saranno qui a minuti. A minuti? Annabeth portò la mano al pugnale, ma si ricordò di non averlo più. Sì. Beh, credo... minuti. Bob si grattò i capelli d'argento. Il tempo è un po' strano nel tartaro. Non è facile misurarlo. Persi si affacciò con cautela oltre il bordo del cratere. Scrutò la strada da cui erano venuti. Non vedo niente, ma questo non vuol dire nulla. Bob, di quanti giganti stiamo parlando? Quali titani? Bob sbuffò. I nomi non li so... sei, forse sette. Li sento. Sei o sette? Annabeth non era sicura che l'arrosto le sarebbe rimasto nello stomaco. E loro possono sentire te? Non lo so. Il titano sorrise. Bob è diverso, ma sentono l'odore dei semi-daisi. Voi due avete un odore molto forte. Forte e buono, come pane e burro. Pane e burro, ripete Annabeth. Oh beh, fantastico. Persi tornò vicino all'altare. È possibile uccidere un gigante nel tartaro? Cioè, non abbiamo un dio che ci aiuta? Guardò Annabeth come se lei potesse davvero sapere la risposta. Persi, non lo so. Viaggiare nel tartaro, combattere i mostri qui? Non è mai stato fatto prima d'ora. Forse Bob può aiutarci a uccidere un gigante. Forse un titano conta come un dio? Non ne ho idea. Ah, va bene. Annabeth capì dallo sguardo quanto lui fosse preoccupato. Erano anni che Persi contava sulle sue risposte. E adesso, quando ne aveva più bisogno, lei non era in grado di aiutarlo. Odiava sentirsi così inutile, ma niente di tutto quello che aveva imparato al campo l'aveva preparata per il tartaro. Di una sola cosa era certa. Dovevano continuare a spostarsi. Non potevano farsi beccare da sei o sette immortali ostili. Si alzò, ancora disorientata dagli incubi. Adesso dove andiamo? Poco distante, Bob stava facendo le pulizie. Raccolse la spazzatura in un mucchio, spruzzò di detergente l'altare e lo strofinò con uno straccio. Persi indicò la parete di tenebre temporalesche. Bob dice di là. A quanto pare, le porte della morte... Gliel'hai detto? Annabeth non poteva impedirsi di sbottare con quel tono, facendo trassalire Persi. Mentre dormivi, ammise il ragazzo. Bob ci può aiutare. Ci serve una guida. Bob aiuta nelle terre oscure, concordò il titano. Arrivare direttamente alle porte della morte sarebbe una brutta cosa. Ci sono troppi mostri lì. Nemmeno Bob riuscirebbe a spazzarne via tanti. Ucciderebbero Persi e Annabeth in due secondi. Il titano si accigliò. Due secondi, almeno credo. Il tempo è un po' strano nel tartaro. Sì, certo, mormorò Annabeth. Allora, c'è un altro modo? Di nascosto, rispose Bob. La foschia della morte forse può nascondervi. Oh, d'un tratto Annabeth si sentì molto piccola all'ombra del titano. Eh, che cos'è la foschia della morte? È pericolosa, disse Bob. Ma se la signora vi darà la foschia della morte, forse vi aiuterà a nascondervi. Se riuscirete a evitare Nix, la dea della notte. La signora è molto vicina a lei. Brutta cosa. La signora... ripete Persi. Sì. Bob indicò di fronte a loro, in quelle tenebre d'inchiostro. Dobbiamo andare. Persi lanciò un'occhiata ad Annabeth, sperando nella sua guida, ma lei non sapeva cosa dire. Stava ripensando agli incubi. Il pino d'Italia squarciato da un fulmine. Gea che si ergeva sulla collina e sguinzagliava i mostri sul campo mezzo sangue. Bene allora, disse Persi. Vorrà dire che incontreremo questa signora. Le chiederemo un po' di foschia della morte e... Aspetta! Lo interruppe Annabeth. Un'idea nuova le ronzava per la testa. Rifletté sul sogno con Luke e Talia. Ripensò alle storie che Luke le raccontava di suo padre Hermes, dio dei viandanti, guida degli spiriti dei morti, dio della comunicazione. Puntò lo sguardo sull'altare nero. Annabeth? Persi sembrava preoccupato. Lei si avvicinò al mucchio di spazzatura e raccolse un tovagliolo di carta abbastanza pulito. Ripensò alla visione di Reina, nello squarcio fumante sotto quanto restava del pino d'Italia. Le aveva parlato con la voce di Athena. Io devo ergermi qui e dovranno portarmi i Romani. Va presto. Il messaggio deve essere inviato. Bob, le offerte bruciate nel mondo mortale compaiono su questo altare, giusto? chiese Annabeth. Il titano aggrottò la fronte, imbarazzato, come se non si sentisse pronto per quel testa sorpresa. Sì. E che succede se bruciamo qualcosa su questo altare? Eh... lascia stare, lo rassicurò Annabeth. Non importa se non lo sai. Nessuno lo sa, perché nessuno l'ha mai fatto. Esisteva una possibilità, pensò, una piccolissima possibilità, che un'offerta bruciata su quell'altare comparisse nel campo mezzo sangue. Gli interrogativi erano molti, certo. Ma se avesse funzionato... Annabeth, stai architettando qualcosa, vero? disse Percy. Hai proprio la tua aria da... sto architettando qualcosa. Io non ho un'aria da... sto architettando qualcosa. Sì che ce l'hai. Agrotti le sopracciglia e stringi le labbra e... hai una penna? Tagliò corto la figlia di Atena. Mi prendi in giro? Percy tirò fuori vortice. Si può usare anche per scrivere? Non lo so, ammise lui. Non ci ho mai provato. Tolse il tappo e, come al solito, si ritrovò con la spada in mano. Era un gesto che Annabeth gli aveva visto fare centinaia di volte. Di norma nei combattimenti. Percy gettava sempre il tappo, che più tardi gli ricompariva immancabilmente in tasca. E quando avvicinava il tappo alla punta della lama, otteneva di nuovo la penna. Prova a mettere il tappo all'estremità opposta della spada, suggerì Annabeth. Come se volessi usare la penna per scrivere. Eh... Percy era dubbioso, ma avvicinò lo stesso, il tappo all'elsa di vortice. La spada si ridusse a una penna sfera, con la punta pronta per scrivere. Posso? Annabeth gliela sfilò di mano. Appiattì il tovagliolo sull'altare, e iniziò a scrivere. L'inchiostro di vortice luccicava di bronzo celeste. «Che stai facendo?» domandò Percy. «Mando un messaggio. Spero solo che Rachel lo riceva». «La nostra Rachel? L'oracolo di Delphi?» «Proprio lei». Annabeth soffocò un sorriso. Ogni volta che lei nominava Rachel, Percy diventava nervoso. C'era stato un periodo in cui Rachel avrebbe voluto che Percy si mettesse con lei. Ma era storia antica. Annabeth e Rachel ormai erano buone amiche. Però a lei non dispiaceva metterlo così in imbarazzo. Ogni tanto bisognava pur tenere il proprio ragazzo sulle spine. Annabeth finì il messaggio e piegò il tovagliolo. Sul lato esterno scrisse «Connor, consegna questo messaggio a Rachel». «Non è uno scherzo. Non fare lo scemo. Abbracci. Annabeth». Trasse un respiro profondo. Stava chiedendo a Rachel Dare di fare una cosa pericolosissima. Ma era l'unico modo che le era venuto in mente per comunicare con i romani. L'unico modo che forse poteva evitare uno spargimento di sangue. «Ora non resta che bruciarlo», disse. «Qualcuno di voi ha un fiammifero?» Bob fece comparire la punta della lancia sul bastone della scopa. Colpì l'altare e si sprigionò un fuoco d'argento. «Oh, grazie». Annabeth avvicinò il tovagliolo alle fiamme e lo posò sull'altare. Mentre lo guardava ridursi in cenere, si chiese se non fosse impazzita. Quel fumo poteva veramente uscire dal tartaro. «Ora dobbiamo proprio andare», le avvisò Bob. «Proprio, proprio andare! Prima che ci ammazzino!» Annabeth fissò il muro di tenebre che gli aspettava. Là dentro, da qualche parte, c'era una signora che dispensava una foschia della morte che forse poteva nasconderli agli occhi dei mostri. Un piano consigliato da un titano, uno dei loro acerrimi nemici. L'ennesima dose di assurdità le esplose nella mente. «Giusto!» esclamò. «Sono pronta!» «Sono pronta!» «Sono pronta!»